Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Se sentite un po' di rumore è perché c'è la Genius, la stampante FDM che sta lavorando e qui c'è la nuova Elego Mars 2 Pro, che oggi vi presento a un video dedicato a lei, che è in funzione e sta stampando un pezzo per un nostro amico. E vi voglio presentare appunto questa macchina che ci ha offerto la Elego come inizio della nostra collaborazione oltre ovviamente alla loro resina washable. E voglio ringraziare veramente di cuore l'Elego per averci dato l'opportunità e l'onore, perché è un grandissimo onore per noi, di poter collaborare con loro. Ma ve ne parlo a breve, dopo la sigla. La Elego Mars, come vedete qui 2 Pro, ora scusate un po' l'inquadratura, sono saluto su un puff, d'altronde lo spazio è sempre quello che è, e l'abbiamo spostata rispetto a dove abbiamo le altre stampanti, gli abbiamo fatto un posto dedicato anche perché non abbiamo più spazio, quindi ci abbiamo levato tutte le miniature che c'erano prima e le abbiamo messe sotto, ci si adatta un pochino. Comunque è la versione Pro dell'Elego Mars 2, perché l'Elego ha fatto la Mars, che è stata la prima stampante, la Mars Pro, poi sono passati alla Elego Mars 2 e per finire nell'Elego Mars 2 Pro, che è uscita da circa un mesetto, forse poco di più sul mercato, circa un mesetto. Ed è una macchina disumana, disumana poi ovviamente la valutazione ve la darò in fondo, e come LCD printer desktop da casa, vi assicuro ragazzi che è nel top della gamma, a livello di qualità e soprattutto anche a livello di prezzo e quello che può fare. Preciso subito che a differenza della Sonic Mini non è una 4K, come tipo di stampante non arriva nella risoluzione di 4K, ma è una 2x, 2x che si raggiungono ovviamente ragazzi, con la resina sua particolare, ma soprattutto con le impostazioni dello slicer, perché a volte si prendono delle stampanti, 2x, 3x, eh ma ci mette sempre 7 ore, come quell'altra fa la stampa. Sì, ma dipende anche come imposti lo slicer, perché se la vuoi fare ultra definita, i layer magari bassi più definiti, la velocità di stampa ridotta veramente al minimo, l'infill della miniatura, è normale, devi trovare te il giusto settaggio per farla andare più veloce. È come pretendere che una macchina vada più veloce di veloce prima e poi vai a 20 all'ora, cioè sei te che devi trovare la giusta forma per farla andare più veloce. Comunque, anche mettendo settaggi di base, già magari un'oretta tranquillamente, se non di più anche un'oretta e mezzo, la guadagnate rispetto alle stampe normali. Il piatto di stampa è leggermente più grande di quelli di queste dimensioni qui. Voglio fare il paragone con la Mars, quella precedente, il modello precedente, la Mars 1. Il piatto è di 13 x 8, quindi si guadagnano in larghezza 2 cm, che ragazzi non sono pochi, perché 2 cm, allargando la figura di 2 cm e alzandola da terra, riuscite davvero a sfruttare un po' di più l'asse Z, perché qui l'asse Z è di 16, rispetto a tante altre macchine che ad esempio sono 13 o sono 15, quindi va bene. Si è alzata di un centimetro, però non è il fatto dell'altezza, che tanto quell'altezza ve la potevo fare di 30 cm l'asse Z, ma non lo sfrutti con una larghezza troppo piccola, perché sennò ti verrebbero figure tipo lo Slenderman, lunghe e secche. Se invece vuoi fare ovviamente il size di una miniatura e ingrandirla o di un progetto, ad esempio un elemento scenografico non ti c'entra, almeno che tu non faccia una torre estremizzata, e più che altro che vada in un volume d'altezza. Quindi era inutile fare un'asse Z troppo grande se poi la larghezza era troppo bassa. E mettendoci anche i 2 cm in più, noi siamo arrivati a stampare, ad esempio dalla Photon, una miniatura 7 cm, perché di più in larghezza non ci stava, con questa siamo arrivati a farla anche a 10-11. Quindi come vedete fa molto, anche solo 2 cm fanno veramente tanto. E poi calcolando che la Saturn, quella immensa che hanno fatto, quella nuova al modello, che spero di avere l'opportunità di licensirvi in tempi abbastanza giusti, quella, il piatto alla larghezza è 12, è 4 cm più di questa, non è che sia al mondo, però l'asse Z è di 20-21, una cosa del genere, che è mostruoso. Si inizia a avere il volume di stampa di un FDM su una stampante LCD, ragazzi, da paura. Ci tirate fuori un esercito completo in una sola stampa. La risoluzione di 1620x2560, che comunque è una buonissima risoluzione, ma ripeto, non è una 4K. La velocità di stampa va dai 30 ai 50 mm all'ora, che comunque, come vedete, è una stampante decisamente veloce. Non la comprate sicuramente per stampare tutto, non hanno fatto la pubblicità 4x, 5x, non lo è, ragazzi. Però, ve l'ho detto, impostata bene, vi assicuro, risparmierete delle belle ore. Arriva, ovviamente, fornita della sua chiavettina USB, con già un progetto di stampa dentro, dell'elego. Vedete la porta USB, ce l'ha sul davanti, quindi non c'è da andare dietro, oppure a volte il laterale che ti va a picchiare contro il muro con un mobile, o appunto sul posteriore, qui c'è davanti, quindi non vi potete sbagliare. E poi anche il logo è veramente molto carino. Il livellaggio della stampante è simile a tanti altri modelli, però, come vedete, ha, ora non la posso scapocchiare, che poi vi voglio dire anche l'unico punto negativo, ma di tutte le stampanti del genere, che non hanno chiusura tipo a cassetta, a involucro, vedete, ha una bella leva sopra al piano appunto di stampa, al piatto della stampa, all'asse Z. Quindi anche da livellare, da calibrare, è molto facile come macchina, ma sono tutte facili quelle che abbiamo avuto. La difficoltà principale l'abbiamo avuta inizialmente con la foto, ma non per cattiveria, perché se era dei nabaci noi, detto sinceramente. Manipola più grande che vedete là su in cima, quella è soltanto invece per attaccarla all'asse, quindi per tenerla bella fissata, non è per il leveling. Comunque il leveling è veramente molto facile, per una stampante, ve l'ho detto ragazzi, assolutamente alla portata di tutti. Adesso vi spiego un po' cosa ho trovato dentro la scatola, nel frattempo vi faccio vedere un video di sottofondo, dove abbiamo fatto un po' di unboxing. Punto negativo, però anche lì non è proprio un punto negativo, ci vuole un po' d'accortezza, mettiamola così. Il coperchio, questo qui che già vedete, penso si vedrà nel video per quanto ci sta l'illuminazione che fa veramente schifo, fa onco. Il coperchio è un po' sporco, perché questo coperchio qui è, ragazzi, umano e naturale, non vi preoccupate, sbagliano anche i migliori. Quindi quando con i guanti andate a lavorare la resina, che i guanti comunque si sporcheranno, ma vuoi anche per le esalazioni, vuoi perché mentre la travasi un pochino magari ti cola nel guanto, vuoi perché anche la miniatura, peggio che la stacchi con delle tenaglie, la stacchi con guanti, con le mani dal piatto, e quindi ancora sporca di resina, ti ci rimane un po' intriso sul guanto. E quando vai a rimettere la capocchia sopra, vedete, rimangano le ditate, quindi si passa tanto tempo, tanto, tanto, tanto tempo a starla a pulire, perché se poi dopo non la stai a pulire, a parte rimane tutta sporca, fa un po' schifo, però più che altro poi dopo già è rossa e non riesci a vedere l'interno. Ci vorrebbe tutte le volte consumare chile, 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 scatole di guanti, perché levi la miniatura, butti i guanti, te li rimetti nuovi e rimetti il tettuccio sopra. Quindi è una cosa un po' scomoda che non fa nessuno. Ogni tanto, magari, dateci una pulita, ecco. È lo stesso problemino che ha anche la Sonic Mini 4K. Questa viene con una guarnizione, la vedete questa qui in nera, no? Quando voi mettete il tettuccio, dovete mettere anche la guarnizione, perché se non mettete la guarnizione, ragazzi, affogate, veramente, fa una puzza disumana. Mentre con la guarnizione, io ci sono accanto, tranquillamente, non sono pazzo, non voglio rischiare chissà cosa, si sente a malapena, un po' d'odore, ma nemmeno. Il problema è che quando andate a levare il tettuccio a fine stampa, piano, 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 perché a volte si rischia che se lo levate troppo veloce si stacca la guarnizione e casca nel piatto sotto, scusate, nella bacinella, con tutta la resina. Quindi, cioè, vi finisce la guarnizione dentro la resina e, ragazzi, di davvero ciao, perché dovete lavarla, pulirla. Insomma, come tutte le cose del mondo, per la stampa con la resina, forse un po' di più rispetto con la FDM, un colpo di martello, stacchi il pezzo, sperando di non rompere l'ultra, beh, insomma, con l'LCD ci dovete stare un po' attenti. Ragazzi, ricorda ancora una volta che la resina è cancerogena. Quindi, occhio, la plastia, tranqui. Tra l'altro, cosa bellina da morire, in questa chiavetta, dentro nei progetti di loro, si è trovata della roba fantasy. Tipo un guerriero si è trovato, dei personaggi fantasy, comunque, ragazzi, bellissimo, non te lo aspetti mai, di solito ci mettono l'anello con l'ogo. La torre, come ad esempio, della Genius, dell'Artillery, col simbolo. Qui ci abbiamo trovato dei progetti fantasy, tipo, sembrano quelli che a volte si comprano da My Mini Factory, e tipo, è un set che costa 27 dollari ad andarla a comprare. Cioè, personaggi bellini che potete buttare in un gioco, come HeroQuest, ad esempio, oppure Dungeon Saga. Ma, figata, infatti, appena l'abbiamo visto, questi ce li abbiamo messi noi? No, ce li hanno già messi loro. Insomma, è una figata, è un regalo che l'Elego vi fa. Veramente molto interessante, anche perché queste stampanti, io penso, il 90% della gente, le compri per modellismo. Quindi, già a trovarci dei mollini del genere, la vai subito a provare, secondo me, al 100%. La resina che vedete qui, che ce l'ha mandato ovviamente l'Elego, e ringraziamo anche questa, che è la Water Washable. Ed è molto buona, perché questa qui non c'è nemmeno bisogno di tante cose di pulizia, la fin fine. Non c'è bisogno di alcol bianco e cose del genere. Stampata, prendete la miniatura stampata, ci levate i supporti, la mettete sotto l'acqua e la sciacquate. E magari con un po' di carta che poi buttate dopo, perché ricordo è cancerogena. Comunque, sotto l'acqua si lava tranquillamente. Quindi è una resina perfetta, costa forse un pelino di più, ma vi leva veramente una mezz'ora di lavoro, se non di più andare lì con l'acqua, con l'alcol bianco, una sigananta che lo dovete cercare in negozio e magari non si trova. L'unica cosa negativa, puzza da morire. Ragazzi, fa una puzza, sta Water Washable, però tranqui, lavorate con la mascherina, state a distanza, la lavate, la scutate un po', finisce lì. Valutazione finale, ragazzi, è una macchina molto 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 competitiva, molto professionale e se vi posso dire la verità, non me ne voglia male nessuna, però, quello che mi ha sempre, penso, anche un po' contraddistinto e di cui ne vado a fiare, essere una persona onesta e sincera in quello che faccio, forse questa è la macchina migliore di tutte, quella che ho avuto finora. Occhio, non vuol dire assolutamente che quell'altra siano peggio, siano scadenti, migliore nel mio gergo, non vuol dire per forza questa è meglio di quell'altra, no, però è una macchina sicuramente più professionale, cioè, le altre a volte mi sono sembrate o un po' giocattolose o magari a volte un po' complicate in certi aspetti, per quanto, lo sapete, la Photon anche, perché la adoriamo in mia moglie, perché sembra che ci abbia un cassone intorno, la Photon ve la potete tenere accanto qui mentre dormite, fa un po' di rumore, quello si fa più rumori di tutte, ma una macchina ormai ha quasi due anni, però ci potete stare così accanto e respirare, non respirate niente, perché comunque oltre alla chiusura della macchina c'è anche un coperchio fuori che non si sporca mai perché ha a manopolina, questa non ce l'ha, però ragazzi questa macchina l'ha livellata, la Photon abbiamo fallito delle stampe, la Frozen abbiamo fallito delle stampe, colpa nostra perché non c'era nemmeno fatto il sandpaper al piatto di lavoro quindi non attaccava, ragazzi questa non ha fallito una stampa, a volte ci si fa l'avete vista anche nelle foto e vi si è fatto vedere cioè delle miniature disumane lavora bene poco puzzo è silenziosa io tutte le volte a mia moglie le faccio ci abbiamo da mettere quelle ose per lavoro ci hanno richieste ma l'hai messa a lavorare allora mi fa si è 4 ore che sta lavorando la Mars ma come non l'ho mai sentita queste qui fatte per lavoro sono con la Ceramic Grey che vedete qui davanti che sono personaggi ovviamente del gioco di Hero Quest ragazzi dai sono più belle di quelle originali guardate qui il dettaglio questa è la Ceramic Grey e questi sono soltanto un paio e questi invece sono fatti un'altra guerra del caos questi sono fatti invece con la Ceramic Skin vedete il Femir bellissimo quindi ragazzi fa dei lavori disumani fatti tutti quanti con questa stampante che non ve lo nascondo e non ve lo nego per ora è la nostra preferita perché è facile cioè a volte bisogna trovare il compromesso è facile da livellare ma hanno stampa precisissima è molto veloce ok è molto veloce ma fa troppo rumore questa non ha un solo lato negativo ve l'ho detto l'unica forse è un po' la guarnizione e il cappuccetto sopra il tettuccio non ha un cavolo di malus non fa magari non fa puzza grazie alla cosa è veloce come stampante perché è un po' più veloce è silenziosa non si sente spettacolare quindi ragazzi se la volete acquistare andate direttamente sul sito della Elego che io ringrazio di cuore per averciola fornito e ragazzi è una figata veramente disumana è la stampante che tutti vorrebbero fidatevi fidatevi c'è qualche matto che ne ha comprate due talmente tanto gli piaceva e voleva più spazio di lavoro che invece ne ha comprate due è veramente uno spettacolo fatemi sapere un po' cosa ne pensate se siete modellisti amanti di giochi da tavolo giochi di ruolo e volete stampare ragazzi miniature io al solito non vi dico cavolate ce l'avete qui davanti quindi lo vedete subito se l'ha fatta da schifo ragazzi è meglio io vi piglio quello di Hero quest originale questo è meglio tra l'altro è in resina quindi il dettaglio viene anche maxato spettacolo ciao ragazzi alla prossima